Qui a Gagliate per l'avventura dedicata si fa anche musica, vero? Ciao Michela! Ciao! E ciao Giudi! Ciao, buongiorno! Edi! Edi, ho detto Giudi ma non è Edi! Allora, voi seguite una banda di ragazzi? Sì, io sono il maestro della banda del Corpo Bandistico Verde Azzura di Gagliate E tu? Io seguo i ragazzi che sono un po' il serbatoio E quanti sono i ragazzi che fanno la banda? Sono più di 20 Più di 20, quindi non ci sono solo bande nel senso negativo Ci sono anche le bande musicali che fanno musica Che strumenti suonano? Abbiamo flauti, clarinetti, sax, tromboni, tromboni, porno Ecco, oggi quindi suonerete? Sì, oggi suoneremo Io sono in veste di musicista oggi quindi il direttore Suoni? Che repertorio fate allora oggi? Facciamo un repertorio adatto ai ragazzi Molto semplice, intuitivo e accattivante per il pubblico E degli arrangiamenti anche adatti a loro Dicci un titolo E facciamo colonne sonore di film Sì, svegliamo tutto Facciamo colonne sonore di film tipo Mission Impossible, Zorro Ma le hanno scelte loro? Scelgono anche loro? Sì, sono anche loro parte attiva delle scelte Ma sono ragazzi che studiano musica quindi anche al di là? Studiano all'interno del corpo bandistico verde-azzurra Voi fate quindi insegnare? Noi abbiamo la banda grande che è formata da persone sia dai ragazzi fino a non c'è limite di età E insieme alle prove che facciamo nella musica di insieme offriamo anche la possibilità di fare dei corsi musicali A cui partecipano i ragazzi e poi fanno musica di insieme nella banda giovanile Bene, allora oggi verrò a sentirvi È un'iniziativa questa molto molto importante per i ragazzi credo oggi Assolutamente È fondamentale Quindi continuate, grazie mille Niente, grazie a voi Ciao, ciao